Si stanno preparando i ragazzi, i cucini 2007, i primi calci, qua abbiamo l'Ortona, qua abbiamo il Fossa Cesia, qua la Virtus Castelfrentano, qua l'Alcione, qua sempre la Virtus Castelfrentano, in fondo c'è la Virtus Lanciano con la classica divisa rosso-nera, c'è la Val di Sancro e c'è il Fossa Cesia, tutti i vari gruppi, dopo a poco faranno il loro ingresso in campo, ci sarà lo schieramento a centrocampo, poi ci sarà l'inno di Mameli, per questa ultima giornata di calcio giovanile, terzo Memorial di Massimo Scalinci, ecco stanno facendo i loro ingressi in campo, stanno facendo i loro ingressi in campo, Grosso applauso a questi grandi, grandi, grandi campioni! Ecco entrano... Ecco arriva, entrano ragazzi del Fossa Cesia, Val di Sancro... Mariottano... Si schierano... E stringete, stringete... Fala unire... Si si, con la bandiera avanti un po' più, eh, con la bandiera avanti, eh, una linea, due in ginocchio e gli altri ragazzi che lo alzano, eh, 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 alzate di più, due in ginocchio e due... Ecco l'inno di Mameli... Ecco l'inno di Mameli... Ecco... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il comunale di via Olimpia di Castelfrentano, pubblico delle grandi occasioni, genitori, nonni, zii. Allora, categoria 2008.